Buongiorno ai carissimi amici dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. E oggi un caro saluto anche agli organizzatori e al pubblico del premio Città di Alassio, un libro per l'Europa. Sono Claudio Voghera, pianista del trio Johannes, e oggi insieme a Simone de Bracconi alla Viola e Paolo Borsarelli al contrabbasso vogliamo offrirvi l'ascolto di uno dei brani più noti della letteratura cameristica, il quintetto di Franz Schubert, detto di Forelle, che tradotto in italiano significa la trota. Il tema della trota è tratto da un lead, da una canzone dello stesso Franz Schubert, il quale lo utilizzò come spunto per una serie di variazioni che andarono a costituire il quarto movimento del quintetto, che nella sua interezza è formato da cinque movimenti. Vi segnalo che si tratta di una registrazione dal vivo di un concerto che abbiamo tenuto nella sala del conservatore Giuseppe Verdi Unione musicale di Torino. Saluto in particolare l'animatore instancabile degli amici della RAI, Stefano Vitale, Paola Cassarino, consigliera per la cultura del comune di Alassio e Neri Marco Re, nuovo direttore artistico del Festival della Cultura. Buon ascolto con uno dei capolavori di Franz Schubert. Giuseppe Verdi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.